Quando si tratta di scegliere un regalo speciale per un'occasione importante, un solitario in gioielleria è spesso considerato il simbolo definitivo dell'amore e dell'eleganza. Tuttavia, trovare il solitario perfetto richiede una certa conoscenza e consigli esperti da parte di un gioielliere qualificato. In questo articolo, esploreremo in che occasione si regala un solitario e forniremo analisi approfondite e consigli utili da parte di un gioielliere esperto per aiutarti a fare la scelta giusta. 1. Il significato di un solitario. Un solitario è un anello caratterizzato da un'unica pietra preziosa al centro, di solito un diamante, che rappresenta l'unicità e la purezza dell'amore. Tradizionalmente, il solitario è associato a importanti occasioni romantiche come le proposte di matrimonio, ma può essere regalato anche in altre occasioni speciali come anniversari, compleanni significativi o per celebrare un traguardo importante. 2. La scelta del diamante. Il diamante è il protagonista indiscusso di un solitario, quindi la scelta di questa pietra preziosa è fondamentale. Un gioielliere esperto può guidarti nella comprensione delle 4C dei diamanti, taglio, colore, chiarezza e carati. Il taglio influisce sulla brillantezza del diamante, il colore può variare dalla scala D, bianco puro, alla scala Z, giallo chiaro, la chiarezza indica la presenza di inclusioni o difetti visibili e i carati determinano il peso del diamante. Il gioielliere ti aiuterà a trovare il giusto equilibrio tra queste caratteristiche in base al tuo budget e alle tue preferenze. 3. La scelta del metallo dell'anello. Oltre al diamante, è importante scegliere il metallo che comporrà l'anello del solitario. I metalli più comuni utilizzati sono l'oro bianco, l'oro giallo e il platino. Ognuno di essi ha caratteristiche uniche in termini di colore, durata e prezzo. Un gioielliere qualificato può consigliarti sulla scelta del metallo che si adatta meglio al tuo stile e alle tue preferenze personali. 4. Considerazioni sul design. Il design dell'anello del solitario può variare considerevolmente. Alcuni solitari presentano un'impalcatura o dei punti di luce per valorizzare ulteriormente la pietra centrale, mentre altri hanno un design più semplice ed elegante. La scelta del design dipende dal gusto personale e dallo stile della persona a cui verrà regalato il solitario. Un gioielliere esperto può offrire una vasta selezione di design e consigliare quello più adatto alle tue esigenze. 5. La dimensione dell'anello. La misura corretta dell'anello è un fattore importante da considerare quando si regala un solitario. È essenziale assicurarsi che l'anello si adatti perfettamente al dito della persona che lo indosserà. Un gioielliere professionista può aiutarti a determinare la misura corretta utilizzando strumenti di misurazione precisi o offrendo servizi di ridimensionamento dell'anello, se necessario. Regalare un solitario in gioielleria è un gesto che evoca amore, impegno e eleganza. Per fare la scelta giusta, è fondamentale avvalersi dei consigli di un gioielliere esperto che possa guidarti nella selezione del diamante, del metallo, del design e della misura corretta. Un solitario ben scelto e di alta qualità sarà un regalo indimenticabile che parlerà del tuo amore e dell'attenzione che hai dedicato alla persona speciale a cui lo donerai. Grazie a tutti.